Ok ragazzi, ci connettiamo per questa live super super quick, adesso aspettiamo un secondo che la gente incomincia a connettersi, sarà una live dove rispondo a qualche domanda e dove parliamo un po' del video che uscirà oggi, perché oggi comunque uscirà un video. Vediamo se intanto le persone si connettono, aspettiamo un attimino e vediamo un po' se incomincia ad arrivare un po' di gente. Vediamo, vediamo, ok, vedo che la gente comincia a connettersi, ragazzi fatemi sapere se si vede, se si sente, se tutto procede in maniera regolare, ok, ciao, ciao Mimmo, ciao Zu, bene bene, adesso posto il link come al solito sul gruppo, così partiamo alla grande, ok, eccoci live, intanto ragazzi se avete delle domande sparatele pure in chat, che adesso ho un paio di cose da dirvi e poi partiamo, ok, che ci sono un po' di domande qua per il Black Friday, quindi, ok, qua c'è la live, ok, postiamo una qua sul gruppo, poi l'altra la posto di qua e due minuti partiamo, anzi se meno, un minuto, ok, un minuto e si parte, tempo che condividiamo anche sull'altro gruppo e la gente si connette, ok, 14, quindi ci siamo quasi, eccoci qua, eccoci live, ok, quindi l'ho postato dappertutto ragazzi e adesso partiamo ufficialmente con questa live che sarà, come dicevo, una live dove rispondo a un po' di domande che mi avete fatto oggi e una live dove invece poi vi, diciamo, vi introduco al video che uscirà oggi, mercoledì, ok, quindi dai salutiamo un po' di gente e partiamo alla grande, ciao Fabrizio, ciao Luca, ho appena comprato i corsi, due corsi, grandissimo Fabrizio, mi fa molto piacere, ciao Marcello, ciao Francesco, ciao, ciao Riccardo, dunque ragazzi se avete domande adesso abbiamo tre argomenti, una è quella dei corsi, uno è la case history di e-commerce che sarà una case history molto importante, mamma mia ragazzi che capelli, orribili, una case history molto importante che uscirà oggi perché oggi all'una escerà un video e l'altra sono un po' le domande che mi avete fatto, quindi partiamo dal Black Friday, prima cosa, oggi ho mandato la mail a tutti, vi ho rotto le scatole, sapete che quando vi rompo le scatole è perché c'è qualcosa comunque di importante che voglio comunicarvi, praticamente oggi parte l'offerta per il Black Friday e dura fino a domenica, è 70 euro di sconto su tutti i corsi, in più se si comprano due corsi insieme si ha un ulteriore 40 euro di sconto, quindi vuol dire 110 euro di sconto, lo dico perché così questa cosa è chiara e fino a domenica praticamente c'è questa scontistica qua, durante l'anno in questo periodo, nel Black Friday è quando io ho i prezzi più bassi dei miei corsi, quindi per questo ve lo dico, durante tutto l'anno questo è il prezzo più basso in assoluto, quindi se siete indecisi, se volete comprarlo, ragazzi compratelo perché poi tra l'altro ci sono gli aggiornamenti già prima di Natale, butterò fuori degli aggiornamenti per il corso sull'e-commerce, poi butterò fuori dei contenuti ancora per il corso sulle animazioni e su Wordpress, quindi queste erano le informazioni per quanto riguarda il Black Friday, ok? Detto questo parliamo della case history che uscirà esattamente tra 26 minuti, ok? Tra 26 minuti io spegnerò questa live e uscirà, e uscirà praticamente, no me la rido perché abbiamo avuto uno scambio con un paio di ragazzi della community per questa scontistica e mi hanno dato del meglio di Mastrota, quindi Mastrota è un grande idolo e soprattutto è proprio parte della nostra infanzia agli 80, quindi grande Mastrota e tra l'altro aveva anche una bellissima moglie, quindi è veramente un numero uno. Detto questo, a parte le cazzate, praticamente uscirà questa case history, è una case history straimportante perché praticamente è un e-commerce che abbiamo realizzato con il framework che realizziamo nel corso sull'e-commerce Next Level V e praticamente ho implementato una serie di funzionalità e di tecniche su questo e-commerce che insieme al lavoro di squadra che abbiamo fatto col cliente e con l'agenzia che si è occupata di fare le pubblicità con la quale abbiamo lavorato a stretto contatto con le quali io collaboro molto, siamo riusciti ad avere grandi risultati. Grandi risultati vuol dire che siamo riusciti a generare in un mese più di mille vendite, per la precisione mi sembra più di 1200 e qualcosa. Quindi questa è una case history molto interessante perché nell'e-commerce poi faccio vedere tutte le tecniche che abbiamo utilizzato per ottimizzare le vendite, per rendere la user experience il più fluida e lineare possibile, quindi sono tutte cose che poi vanno veramente a portare risultati all'interno dell'e-commerce. Un'altra cosa è che praticamente tutte queste nuove migliorie, tutte queste nuove funzionalità che ho inserito sul framework di base che avevamo sviluppato nel corso, le andrò poi a rilasciare all'interno del corso sempre dell'e-commerce in maniera logicamente gratuita per chi ha comprato, spero il prima possibile. Sono tante funzionalità, devo praticamente impacchettarle meglio per metterle all'interno del corso, poi devo fare il video per spiegarvi come utilizzarle, però veramente sono funzionalità avanzate che nessun tema ha e nessun e-commerce ha di default. Sono tutte cose, diciamo soprattutto alcune sono cose che devi sviluppare da zero. Ok, quindi questo per quanto riguarda la case history che uscirà tra un 20 minuti. Detto questo, voglio rispondere a un po' di domande che mi avete fatto dunque. Mi avete fatto innanzitutto prima le vado a prendere, innanzitutto vado a prendere quelle che mi avete scritto che mi ero segnato, poi rispondo alle domande in chat ragazzi, 5 minuti rispondo a tutto. Praticamente domanda sul gruppo Next Level WooCommerce, se non siete ancora iscritti ragazzi iscrivetevi, parliamo di e-commerce e di siti web in WooCommerce tutto il giorno. Praticamente cos'è che mi ha scritto, perché mi è saltato qua al post, cos'è che mi ha scritto Gianluca? Ciao Gianluca innanzitutto mi ha scritto, è la prima volta che mi imbatto in questa richiesta. C'è la possibilità di effettuare spedizioni diverse per zona, esempio un ristorante che spedisce cibo solo in zona Roma, ma se ordino il vino allora anche in tutta Italia. Dunque se tu fai le zone di spedizione, poi dovresti, è un'esigenza che a me non è mai capitata, però sono quasi sicuro che tu basta che fai le zone di spedizione, ti crei le zone di spedizione e poi assegni al prodotto la zona di spedizione per il quale è disponibile. Io di solito lavoro per spedizioni su tutto l'e-commerce, quindi mi capita magari di avere spedizioni particolari, di escludere i cap per le isole per esempio, oppure anche questa è una cosa custom che vedremo nelle funzionalità custom del nuovo framework, perché è una cosa che poi se avete degli e-commerce reali ragazzi vi servono, perché uno vi ordina dalle isole e magari purtroppo nell'isolettina strana Ischia per esempio, Ischia anche vicino alla costa, però che ne so, un'isola strana vi costano troppo le spedizioni, quindi lì non dovete spedire. Quindi diciamo, per rispondere alla tua domanda dovresti fare le zone di spedizione e poi assegnarli ai prodotti. Sono quasi sicuro che si possa fare, non l'ho però mai testato perché è un'esigenza molto molto particolare. Poi vado a rispondere invece poi a un'altra domanda di Davide, questa è una domanda sui corsi, rispondiamo velocemente, ok quali sono le differenze tra il corso design html vp e next level vp pro? Dunque next level vp pro è un corso molto più completo logicamente perché è un corso pro quindi c'ha molte più ore di lezione ed è un corso dove non solo vediamo nel dettaglio come funziona wordpress e come si costruisce in tema wordpress, ma vediamo nel dettaglio come creare un intero progetto su wordpress, quindi partendo dalla realizzazione del tema che è una parte e poi andiamo a vedere come ottimizzarlo a livello di performance, a livello di SEO, a livello di comunicazione, come caricarlo online, come andare a tradurlo, come andare a appunto fare multilingua, come andare a creare dei template custom, come andare a sviluppare template per Gutenberg, quindi è un corso che ti consente di creare un progetto wordpress dall'inizio alla fine a 360 gradi e venderlo a 1000-1005 di base e poi vai su tu, in base alle tue skill, in base a che grado di design sei in grado di a che brambura a livello di design hai, ok? E di UX e di progettazione della comunicazione. Sono temi però, diciamo, che tocchiamo all'interno del corso, comunicazione, UX e design, però il corso non è focalizzato sul design. Il corso sul design lo devo fare e lo farò magari l'anno prossimo, vediamo un po'. Ok, design incentrato sulla conversione, design incentrato su creare più vendite, design applicato alle tecniche di marketing per fare più conversioni e quindi centrare gli obiettivi del nostro sito. Se siete interessati su questo argomento conversion design, ragazzi, fatemelo sapere nei commenti perché sto valutando adesso che cosa fare poi l'anno prossimo. Ok, spero di averti risposto sul corso pro, il corso invece più, il corso Next Design HTML e VP è un corso base, però è un corso base che tanto base non è come ha detto il buon Giuseppe Biondo. Perché? Perché praticamente andiamo a vedere come creare un tema molto molto semplice, però ti faccio vedere utilizzando gli snippet che ci sono dentro il corso, quindi utilizzando questi blocchi di codice che puoi iniettare dentro il tuo codice facendoti risparmiare un sacco di tempo, puoi praticamente andare, cioè vediamo come creare un sito WordPress base, ma già strutturato, già bello con delle belle funzionalità, quindi se tu hai un po' di dimestichezze con HTML e CSS, con quel corso lì già riesci ad avere un ottimo risultato. Poi logicamente se devi fare un progetto finito con quello non riesci ad averlo perché ti mancano le basi di SEO, ti mancano le basi di alcune altre cose che logicamente devi poi studiare in un corso più strutturato. Ok, queste erano le domande. Adesso vediamo un attimo qua cosa mi avete sparato in chat, vediamo un po'. Ciao Andrea, ho notato che i temi Shopify sono più professionali rispetto ai temi WooCommerce. Guarda, dipende, Shopify ha dei temi molto belli, però ha anche molte meno, diciamo, opzioni e funzionalità, diciamo, rispetto a un tema WooCommerce lo puoi customizzare molto di più. Shopify invece tu lo compri online e quindi poi, diciamo, il sito online non è sul tuo server e hai molte meno opzioni di customizzazione. Ci sono dei bei temi per Shopify, ce ne sono moltissimi belli anche per WooCommerce. Il discorso è che su WooCommerce ce ne sono anche tanti che fanno schifo, quindi tu mischi un po' quelli belli con quelli che fanno schifo nel grande mare di temi WooCommerce e quindi dici il livello un po' più basso. In realtà, se guardi, diciamo, i temi, vabbè, io a parte che io uso solo i miei temi, quindi non è che ho tanta esperienza di temi WooCommerce professionali, però ci sono, ce ne sono alcuni fatti bene, anche se sono sempre temi che non ti garantiscono le performance di un tema che ti realizzi te perché hai dentro le esatte risorse che ti servono. Io con i temi che sono riuscito, con i miei temi custom, il mio framework per fare WooCommerce, siamo in grado di creare un sito che carica in un secondo, un secondo e mezzo, massimo due secondi, un e-commerce ragazzi con i tracciamenti di Facebook, tracciamenti di Google, integrazione Google Shopping, integrazione Facebook Shopping, integrazione Active Campaign, tracciamento dei carrelli, tracciamento di tutto quello che avviene nell'e-commerce. Quindi sono cose che appesantiscono il sito. Se hai già un tema pesante e ci aggiungi anche questa roba, diventa un mattone, quindi devi poi fare delle ottimizzazioni. Se invece parti da una base come quella che realizziamo nei corsi, voli. Quindi l'ultimo, la case history che uscirà tra un quarto d'ora su YouTube, appena finiamo questa live, uscirà la case history, vedrai in quanto carica il sito. Non te lo dico, battelo a vedere poi nel video dopo. Ciao Michele, ciao Davide. Il corso WooCommerce contiene un approfondimento sull'adeguamento della legge italiana dell'e-commerce. Se intendi la GDPR, abbiamo una setup base per la GDPR all'interno del corso già adesso. Voglio fare un ulteriore upgrade per quanto riguarda la GDPR nel corso ed è una delle cose sulle quali sto lavorando insieme al framework, perché praticamente se tu vai a fare dei tracciamenti di un certo tipo, devi avere alcune dinamiche molto particolari nella GDPR. Quindi c'è già il discorso della GDPR e verrà aggiornato a brevissimo, ok? Con un intero modulo, con un'intera lezione, anzi saranno probabilmente magari un po' troppo lungo, magari lo spezzo in due lezioni, quindi farò un modulo da due o tre lezioni su questi argomenti. Ho notato che 6Ground quando si connettono al sito più di 40 persone il sito rallenta. Tu credi che il problema è l'hosting? No, 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 non credo assolutamente. 6Ground con 40 persone anche se il piano basic non le sente neanche. Probabilmente magari c'è qualcosa nel tuo tema che non va, ok? Probabilmente o stai usando troppi plugin o stai usando un tema che carica un sacco di risorse, oppure non lo so, possono essere mille problemi, puoi avere delle immagini molto pesanti nella pagina, però diciamo che 6Ground con 40 persone no, no, non c'è problema, anche se hai il piano basic. Ok, andiamo avanti con le domande. Ciao Andrea, tu quante ore lavori al giorno? Ah, bella domanda questa, Dark. Dunque, prima lavoravo molto di più, cioè lavoravo tipo almeno 7-8 ore al giorno, ok? Quindi tanto, adesso lavoro meno, adesso sei. L'importante però è che quando lavori sei molto focalizzato, molto concentrato. Poi dipende un po' dai periodi, ci sono dei periodi dove si lavora di più, dei periodi dove si lavora di meno. Per esempio io quando ho il lancio di un nuovo corso, lavori molto, lavori molto. Quando ho il lancio di un nuovo sito, lavori molto, perché quando arrivi vicino alla deadline del progetto, che sia un corso, che sia il sito, che sia un e-commerce, praticamente continui a fare gli ultimi aggiustamenti, ti arrivano i feedback, devi continuamente, diciamo, aggiustare gli imprevisti che ci sono sempre. Quindi un consiglio che ti do è se ti prendi delle deadline, considera almeno, non so, una settimana di buffer o 10 giorni di buffer per avere un po' di, un po' diciamo di cuscinetto perché è facile andare lunghi, ok? Quindi direi che adesso, io comunque le traccio le ore che lavoro al giorno, io so esattamente quante ore lavoro al giorno, quante ore lavoro in un anno, quante ore lavoro al mese, perché tra l'altro su queste cose volevo fare anche un contenuto magari per tutti quelli, mi piacerebbe fare nel corso, nel gruppo dei corsi, che è un gruppo free per tutti quelli che hanno preso il corso, fare dei contenuti gratuiti per quelli, diciamo, della mia cerchia ristretta, per quelli che hanno già comprato i corsi, dove faccio vedere queste cose, praticamente io ti posso dire che ieri, che è stata una giornata di lavoro media, ho lavorato, no, 1, 2, 3, 4, 5, e un quarto, 5, ho lavorato 6 ore e 40, no scusa, 5 ore e 45 minuti ieri, ok? 5 ore e 45 minuti, lunedì che invece è una giornata un po' più tosta, ti posso dire ho lavorato 1, 2, 3, 4 e mezza, 5 e mezza, lunedì ho lavorato 7 ore più o meno, ok? Quindi ci sono dei modi per tracciare, guarda ciò qua, ti faccio vedere, ok? Col calendario tu puoi tracciare, con un calendario, una serie di script, una serie di cose custom, anche lì perché io devo customizzare tutto, puoi tracciare il tuo lavoro e la cosa importante di tracciare il tuo lavoro è che io posso dire per fare questo lavoro ci ho messo 30 ore, per fare questo e-commerce ci ho messo 100 ore, per fare questa web app ci ho messo 150 ore, per fare questo sito ce ne ho messe 30, hai capito? E questo ti può far capire se tu hai beccato il preventivo che avevi fatto, ok? Questi sono tutti i concetti per i freelance che mi piacerebbe poi un giorno approfondire. Ciao Andrea, il tuo tema WooCommerce è compatibile con Ali Dropshipping, Ali Dropship Plugin? Non lo conosco, non conosco quel plugin lì però diciamo il mio tema segue tutte le best practices di WooCommerce quindi se è compatibile quel plugin lì con un tema normale è compatibile al 99% anche col mio. Ciao Andrea, preferisci sviluppare e lavorare a tutto tondo rispetto a un prodotto? costruire il sito rispetto a un prodotto? Aspetta che non ho capito. Preferisci sviluppare e lavorare a tutto tondo rispetto ad un prodotto o costruire il sito rispetto ad un prodotto terzo che ti fornisce direttamente il cliente? Ah ok, adesso un po' contordo però penso di aver capito. Dunque dipende, logicamente dipende perché molte volte hai progetti dove il cliente ha già dei punti di forza, ha già un prodotto e ha già praticamente una sua più o meno strategia nell'offline e tu devi portarlo online e quindi tu devi solo diciamo adattare le sue strategie all'online. Poi dipende molto anche da quali sono gli obiettivi del sito, se deve vendere a qualcosa, se deve farsi conoscere basta, se deve trovare nuovi clienti. Ok? Però dipende molto dalla base di partenza che ti dà il cliente, se il cliente invece non ha proprio niente e ti dà carta bianca, lì si può lavorare ancora meglio secondo me, però logicamente c'è più lavoro da fare dal punto di vista della comunicazione e del marketing, quindi anche lì c'è da lavorare un po' di più. Quindi a me piace fare tutte e due, mi piace sia lavorare con clienti che hanno già un'identità molto molto ben precisa, sia lavorare invece con clienti che hanno bisogno di una mano nella comunicazione e logicamente quando gli devi dare una mano nella comunicazione il gioco è più complesso e c'è più lavoro da fare perché oltre che fare il sito devi fare anche tra virgolette la strategia. Comunque secondo me è sempre comunque meglio avere una piccola, cioè una base di partenza dove il cliente ha già i suoi punti di forza, i suoi punti deboli perché se non hai quello può essere, può essere diciamo, può essere dispendioso in termini di energie fargli proprio tutto tutto senza costruirgli tutto il prodotto. Nel corso W è previsto di gestire prenotazioni per fasce orarie? Sì, abbiamo fatto un upgrade per il delivery dove facciamo praticamente, dove vediamo come fare una prenotazione per fasce orarie e quindi sì. Andrea lavoro in azienda da solo, lavoro da solo da 9 anni, ok? Sono 9 anni, ho aperto la partita IVA, no? 8 anni, lavoro da solo, ho aperto la partita IVA nel 2012, però sono freelance, prima lavoravo quando facevo l'università, lo facevo con le ritenute da conto dal 2009, ok? Quindi sono freelance da 11 anni e prima ho lavorato due anni in agenzia, quindi non lavoro in azienda, collaboro con varie aziende, spesso vado a fare, prima adesso perché purtroppo con questa situazione vado meno in loco, però collaboro con varie aziende, per esempio ho collaborato con un incubatore di startup di Milano per il quale ho rifatto tutti frontend in React delle loro startup, erano sette startup, abbiamo fatto un po' in React e abbiamo fatto un po' di HTML e CSS su strutture già loro proprietarie in Java e in cos'era .NET, ok? Quindi lavoro e collaboro anche con le aziende, però principalmente lavoro da solo, collaborando con altri professionisti e con altre agenzie per creare risultati ai miei clienti, ok? Ciao Andrea, secondo te è possibile con WooCommerce creare un ordine che però risponde a più venditori? Eh, questa è un'esigenza molto custom, però secondo me si può fare, si può fare, perché su Woo tu potresti mettere, cioè dipende come tu scegli il venditore e come imposti il venditore, però tu in Woo puoi fare negli ordini dei campi custom e nei campi custom di Woo puoi andare a mettere quello che vuoi, quindi se tu per una determinata zona hai un venditore, tu fai un campo custom, lo popoli e poi nell'ordine te lo ritrovi e quindi quello potrebbe essere un venditore, se magari gli giri anche la mail associ l'ordine al venditore e il venditore a una mail, poi gli mandi la mail al venditore. Dal punto di vista strutturale si può fare. Ciao Andrea, che libri sul design consigli o libri sullo sviluppo web? Guarda, sul design non... diciamo io ho fatto dei corsi, ho studiato un po' diciamo all'inizio, ovvero ho studiato autodidatta quando ero ragazzino che facevo i flyer con Photoshop, eccetera, poi ho cominciato a disegnare i siti per i miei gruppi dove suonavo, poi ho preso dei corsi, ho fatto design for developers, di developers, scusate che sbaglio sempre, developers, di Mackenzie Child, un web designer molto molto forte americano, 500 dollari e quello è il mio studio del design, poi ho studiato tantissimo da autodidatta, ho letto anche molti libri, adesso qua ne ho un po', tipo Figo, sul design, ho questo, che è più sul conversion design, che lo sto studiando, molto bello, convert, questo è anche molto difficile da trovare, però è in inglese, mentre invece se vuoi studiarti un po' il design, se siete così interessati al design, ragazzi farò una serie, una bella serie di video free dove vi faccio vedere tutti i principi base del design, magari la farei tra un po' adesso, perché adesso c'è Natale, voglio fare tutti una serie di progetti per Natale, però a livello di design quel libro lì è molto interessante, se no ci sono molti corsi sul design, se vuoi studiare i principi base del design comunque se fai una ricerca su Google li trovi, magari non in italiano però, ok. Ciao, unico ordine ma composta da prodotti, ok, questo l'ho detto, che ne pensi di Vue? Beh, Vue è figo, però a noi non serve, Vue non è un'alternativa a GQuery, Vue è una cosa diversa, ok, quindi con Vue rifai proprio tutto il frontend, con GQuery invece fai solo le interaction, ne fai solo alcuni pezzi del frontend dove HTML e CSS non ci arrivano, Vue ha senso se tu sviluppi app, Vue ha senso se tu sviluppi prodotti dove l'utente si logga e fa mille robe, se invece tu vuoi sviluppare siti normali da deliverare ai clienti, devi utilizzare un sistema tipo WordPress o un sistema che ti consente di essere più flessibile, se no ogni volta che devi fare una modifichina devi ribildare tutta l'app, ricaricarla e ciao, o glielo fai pagare 10.000 euro, se no non vale neanche la pena di mettersi giù, Vue e React sono ottimi se tu vuoi lavorare in azienda, ma se tu vuoi fare i siti, gli e-commerce, se vuoi fare i social network, se vuoi fare i siti con le prenotazioni, se vuoi fare i siti dove le persone si loggano e hai già una base di partenza, devi utilizzare per forza un qualcosa come WordPress con il plugin relativo, se no devi ribildare, non hai la flessibilità, ti chiedono una modifica, devi rifare tutto. Ok, c'è Andrea che università hai fatto? Ho fatto comunicazione multimediale qua a Pavia, 5 anni. Secondo te in questo ambito serve? No, 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 non serve, l'università serve tantissimo, serve tantissimo perché ti fa innanzitutto creare una rete di relazioni, cioè io i primi lavori li ho trovati tramite i contatti dell'università, per esempio, cioè i primissimi no, i primissimi tramite contatti di amicizie, però c'è un mio amico che aveva aperto una società che aveva bisogno del sito, però poi quelli appena dopo sono siti che ho fatto per realtà che ho conosciuto in ambito universitario, persone che avevano progetti, persone perché in università c'è tanta gente che ha progetti, che vuole fare, che ha un sacco di cose da buttare fuori, e quindi l'università serve tantissimo per creare le relazioni, per farti imparare, diciamo anche per farti capire cos'è che ti può piacere, perché io ho fatto design della comunicazione, cioè comunicazione multimediale in realtà si chiama, perché c'erano degli esami di web design, perché c'erano degli esami di codice, poi ho fatto il piano di studio, ho messo dentro Java 1, Java 2 di ingegneria informatica, però devo dire che quelle cose che ho imparato lì, quindi il web è già cambiato quattro volte da quando io ho fatto l'università, perché prima io ho fatto la tesi quando mi sono laureato, quindi ero alla fine dell'università, sul responsive sembravo un pioniere che parlava di robe mai viste, poi dopo il responsive c'è stato tutto il cambio tra, anzi prima del responsive c'è stato il cambio tra tabelle e div e css, poi c'è stato il cambio da quello al responsive, poi c'è stato, adesso praticamente siamo in una fase ulteriore, dove adesso praticamente il responsive lo dai per scontato, quindi diciamo che quello che ho imparato all'università mi è servito, è l'un per cento di quello che poi ho studiato per fare di pratico che mi serve, quindi non ti serve, però ti consiglio di farla, se hai la possibilità farla perché è un'esperienza veramente incredibile, e mi è servito tantissimo appunto, soprattutto per crescere come persona, ok, una domanda banale, siti tipo le banche o le poste, come sono creati? Principalmente in .NET, ok, che è un linguaggio enterprise proprietario di Microsoft, che devi comprare e che puoi sviluppare praticamente solo se sei in azienda, da solo come freelance non ha molto senso, ok, perché è un linguaggio che serve per fare appunto le infrastrutture giganti, ok, e non per fare i siti fighi, ok, ok, quindi dovete fare distinzione tra piattaforme enterprise, cioè quelle utilizzate dalle banche, dalle mega società giganti, e invece dai siti e dalle realtà online fatte da aziende normali, quindi non un'azienda che ha 150 banchi in Italia e ha bisogno del sito, perché quello, il sito istituzionale glielo fa in WordPress tranquillamente, però il sito dove vedi tutti i bancomat, le cose, le transazioni, quello devi farlo con un linguaggio enterprise, ok? Per quanto riguarda le consulenze, come rivolgersi per il pricing? Eh, dipende dalle tue competenze, più sei competente, più vai su, per esempio io vado dai 100 ai 300 euro per una consulenza, ok? Dove posso iniziare a vendere siti web creati da me? Creandoti, per esempio, ho fatto un'intera serie a riguardo, cercala su Google, si chiama Web Design Coffee, guardala e lì ti spiego tutto. Ciao Andrea, cosa ne pensi di Django? Figo, fighissimo, ma lo utilizzano in pochi, lo utilizzano in pochi, quindi se vuoi studiare un linguaggio per poi andare a essere competitivo sul mercato, lo utilizzano un po' in pochi, però è molto figo come linguaggio, è un framework di Python. Come crei link con altri professionisti? Inteso come sviluppatore rapporto che siano, o come crei rapporti di lavoro che siano? Beh, facendo networking, andando alle conferenze, adesso non si può, vai nei gruppi, vai nei forum, vai nei blog, commenta, interagisci, chiedi e lì conosci le persone. Il mio prof dice che il GQuery è ormai passato e si usa vanilla. Cosa ne pensi? Questo l'abbiamo già risposto mille volte, la solita risposta è il... Anzi, c'è un video, c'è un video fighissimo, cerca GQuery, c'è un video fighissimo che ti spiega perché GQuery è il top, si chiama GQuery, l'avevo anche postato, why GQuery rules, tipo. Adesso lo trovo, ti faccio vedere, why GQuery rules. Sostanzialmente perché se io devo scrivere una roba con GQuery, ci metto un decimo del codice che tu devi scrivere. No, un decimo no, però meno della metà, ragazzi. Cioè, se io devo scrivere un codice JavaScript con GQuery, ci metto meno della metà del tempo e meno della metà del codice che tu ci metti a farlo con JavaScript puro. Perché? Perché tu usi JavaScript puro per fare il figo e dire che usi JavaScript puro ai tuoi studenti? Probabilmente è un prof che magari non lavora neanche in questo settore, fa solo prof. Ok, quindi... No, non lo so, ci mancherebbe altro. Però, guardati il... Why GQuery rocks forse era in one minute. The legend of GQuery in 100 secondi. Ok, the legend, ragazzi, guardatelo, cercatelo, perché spacca tantissimo. The legend of GQuery in 100 secondi. Guardatelo e fatevi due risate perché lì ci ha spiegato tutto. Ok, 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 adesso andiamo avanti con le domande a bomba. Ciao Andrea, si riesce a seguire bene il corso V anche se senza grosse conoscenze WordPress in generale? Per riuscirsi si riesce, però se proprio sei a digiuno di WordPress e non hai mai neanche aperto WordPress, te lo sconsiglio. Cioè, devi avere un minimo di dimestichezza con WordPress, niente di che, devi avere un minimo di dimestichezza con HTML e CSS, tanta voglia di imparare, se no non andiamo da nessuna parte, e aver usato WordPress qualche volta, ok? Poi WooCommerce te lo spiego io come usarlo, però devi avere la mente aperta, aver già installato almeno una volta WordPress, adesso comunque devi già avere un po' di dimestichezza. Anche se nel corso ti faccio vedere come installare tutto, ti faccio vedere tutto. Nel corso WooCommerce tutti quelli che l'hanno preso non ho avuto una persona che mi ha detto, guarda non capisco, non riesco a capire, ok? Anche persone che avevano poche conoscenze HTML e CSS. Quindi vai tranquillo, insomma. Penso che sia uno di quelli più chiari che ho fatto, ok? Qual è secondo te il modo migliore per integrare uno slider nel tema sviluppato nel corso Next Level Web Dev? Guarda, potresti usare Flickity Slider. Il sistema più easy per farlo è Flickity Slider. Metti Flickity, è una cazzata da mettere, e poi devi logicamente inizializzarlo dove andiamo a fare, piccola parentesi tecnica, dove andiamo a fare la rinizializzazione degli script. Devi andarlo a mettere lì dentro. Comunque se scrivi sul gruppo o mi scrivi una mail o mi scrivi nel modulo di contatti dello shop, possiamo mettere, mi prendo nota, possiamo poi, lo metto nelle liste delle to-do, delle cose possibili da fare per i prossimi moduli. Quindi, adesso io me la scrivo qua, però se tu mi scrivi una mail tramite il modulo contatti del marketing design shop, poi da lì riusciamo a fare tutto. Intanto, ragazzi, deve essere uscito il video sull'e-commerce, quindi adesso facciamo ancora dieci minuti di live e poi devo staccare, anche perché così vi lascio andare a mangiare. GDPR per il V, ok, prendo un attimo appunti e andiamo avanti con le domande a bombazza e poi andiamo a mangiare, ok? E intanto, ragazzi, su YouTube è uscito il video, quella case history, è una bomba. Adesso finiamo la live e poi andiamo tutti a vederlo. Quale secondo termine? Questo l'ho già fatta. Mi sono iscritto alla tua newsletter, ho visto i tre video e alla fine avevo un'offerta, ma oggi è più alto il prezzo. Sì, perché non ho bloccato quelle mail lì, in realtà il prezzo di quel corso lì adesso è andato full e quindi il prezzo è questo qua. Ok, quindi quella mail lì, non so da dove ci sei arrivata perché l'avevo disattivata, non so come mai ti è arrivata quel flusso di mail. Con l'email marketing non sono proprio bravo, quindi purtroppo ogni tanto girano mail un po' strane che dovrebbero essere bloccati e non dovrebbero più girare. Comunque me lo segno anche questo. Ok. Ok, Andrea, per sviluppare un sito da zero per persone private o aziende ci vuole qualche settimana o anche dei mesi? No, ci vuole qualche settimana. Poi dipende molto da che workflow hai, dipende se ti danno tutti i contenuti, eccetera. Quindi per dirti, io se ho tutto, un sito semplice, lo sviluppo in un giorno, barra due, sono tutti i contenuti, da un sito semplice di 4-5 pagine, devo solo fare il design, devo trasformare il design sul mio framework, ci metto due giorni. Una persona magari che non ha tutta questa conoscenza, ci può mettere, dipende, dipende dalle tue conoscenze. E da che metodo hai? Io sono arrivato ad avere questi risultati, le persone che hanno seguito i miei corsi, hanno visto questo metodo. Quindi c'è tutto un discorso sulle basi di partenza che abbiamo e che utilizziamo, come non ripetersi più volte, come ottimizzare la scrittura del codice, come non continuare a reinventare la ruota, ma avere delle strutture che tu puoi riutilizzare, quindi metterci meno tempo. Ok, ok, ciao Andrea, spero che stai bene. Sì, sì, tutto bene, grazie. Ho provato a studiare per quasi un anno JS JavaScript, GQuery, JSON, ma non ci capisco nulla. Dunque, di come utilizzare? Sono molto competente nel backhand, mi daresti un consiglio. Guarda, se vuoi imparare JavaScript, vai sul mio sito, c'è la guida base free, totalmente free, su JavaScript, dove impari le basi di JavaScript. Ti fai quella, poi c'è la guida base su GQuery, ti fai anche quella e dopo che hai fatto quelle due cose lì vedrai che di JavaScript ce la farai a capire qualcosina di più. Si può bloccare il fatto che quando scrivo nella urwpadmin compare il tuo backhand, puoi cambiare la URL della vpadmin, si può fare con dei plugin, si può fare anche via codice. Andrea, dopo CSS e HTML, cosa mi consigli di imparare? JavaScript e GQuery. Stesso consiglio che ho dato dall'altro ragazzo, vai sul mio sito, guida free, JavaScript, guida free, GQuery, fatti quelle due lì. Ciao Andrea, ciao guerrino. Ciao Andrea, quando devi fare un sito per un cliente, usi WordPress, scrivi tutto il codice, nel 90% dei casi uso WordPress. Ciao Andrea, ti ho scritto per la ricerca in Ajax, che sono... Ah, è vero, sì. Ciao Andrea, è vero, hai ragione, scusami, mi sono perso il tuo messaggio, che solo su quel sito mi sta dando problemi, non riesco a capire dove sbaglio. Me lo segno, Andrea Balini, ti rispondo dopo, in privato, così gli diamo un'occhiata, tanto oggi pomeriggio dovrei avere una mezz'oretta da guardarci. Comunque per favore, fai video di design che non so abbinare i colori. Ok, c'è una ruota per abbinare i colori, si chiama la Coral Weir comunque. Andrea, secondo te quali sono i migliori progetti per un ottimo portfoglio? Incomincia a farli i progetti, non pensare a quali sono i migliori, incomincia a farli, incomincia a fare progetti che ti interessano, che ti fanno gasare, che ti danno un qualcosa, che ti danno la voglia di fare. Ok, tu li fai e poi quelli più belli li metti nel portfoglio. Tra l'altro, io adesso devo aggiornare il portfoglio perché è vecchio, ho messo il sito della quale ho fatto la case history oggi e praticamente la cosa è che devo aggiornare anche il portfoglio, quindi siamo un po' sulla stessa barca. L'importante è fare progetti fighi, poi c'è tempo di metterli nel portfoglio. Io adesso vorrei rifare, tra l'altro vorrei rifare tutto il design del mio sito, voglio rifare il design, voglio rifare il portfoglio, voglio risistemare la comunicazione, voglio sistemare un po' di cose. Appena avrò tempo, magari poi ci faccio anche un video a riguardo. Ok, grande ragazzi, grande Paolo, che prima mi prendeva in giro su, è lui che ha dato il via al tormentone di Mastrota, ma lo prendo come un complimento, e poi se i corsi sono cari, sono cari, se i corsi sono in sconto, non va bene che sono in sconto. Ragazzi, decidetevi. Andrea, sicuramente nella creazione di un sito c'è dietro della psicologia per influare le persone che visitano il sito? Assolutamente sì, si chiama marketing questa cosa qua, si chiama marketing e comunicazione. Un tema Shopify, è possibile portarlo su WooCommerce? No, però ci sono tante gente che sviluppa temi per Shopify che li fa anche per WooCommerce, però fare una transazione non è possibile. Cosa ne pensi di Node? Node, non so, non conosco, cioè lo conosco, ma non lo prendo in considerazione, perché se devi fare un sito per dei clienti veri, non lo fai in Node, ok? Node lo usi nelle aziende, lo utilizzi, si fa i web app molto complessi, ma se fai un sito normale, istituzionale, un e-commerce, se fai un sito per le prenotazioni, non lo fai in Node. Almeno, questo è il mio, cioè, è la mia percezione della cosa, non è la scienza infusa. È possibile inserire un focus quando clicco su un pulsante di ricerca con un campo di ricerca full screen? Penso, sì, certo, sì, in JavaScript lo puoi fare, in GQuery. Che ne pensi di Sferi Basta? Questa me la fate sempre con la domanda su Sfera. Non mi piace come artista, però sicuramente avrà delle qualità, no? Se è fatto, se è così famoso. Anche se io, quando avevo 16 anni, noi ascoltavamo, che ne so, ascoltavamo i Green Day, ascoltavamo i Blink, ascoltavamo i Pantera, ascoltavamo i The Roads, ascoltavamo le porno riviste, ascoltavamo gruppi che avevano qualcosa da dire. Adesso c'è Sferi Basta, poveri 16 anni di adesso. Noi andavamo ai concerti, si suonava, c'era, c'era gente che era capace di fare qualcosa. Adesso qua, prendono con l'autotune, non mi piace. Sono troppo vecchio. Che l'app consigli per un web designer? Il nuovo, Mac M1 da 13, ok? Che è una bomba, se prendi l'Air, in dollari costa 999 dollari, ed è una bomba, è molto più potente di un Mac come questo qua, ok? Che, vabbè, il mio Mac c'ha quasi 10 anni, però questo qua era il top di gamma di 9 anni fa, e ti dico, dopo 9 anni va ancora una bomba, e spero di non cambiarlo mai, però prima o poi dovrò cambiarlo. Ok? I corsi che provano sono validi, anche in più c'è l'assistenza. Grande, Paolo, grazie. Grandi Pantera, qual è il vantaggio di WordPress rispetto al codice? Che hai già il miglior back-end, il miglior pannello di controllo disponibile al mondo per creare e pubblicare contenuti online, gratuitamente, già fatto. questo è il vantaggio di usare WordPress in due, proprio in un botto di risposta. A che siti ti stai lavorando? Sto lavorando un e-commerce di moda molto figo che spero sia pronto gennaio, perché il cliente comunque non è, ho delle limitazioni anche per quanto riguarda i tempi con il cliente, stiamo decidendo un sacco di cose, è un progetto complesso, logicamente non ci lavoro tutti i giorni da qui a gennaio, ci lavoro i giorni che servono, però a gennaio uscirà questo nuovo e-commerce sulla moda, un brand anche abbastanza conosciuto, quindi sicuramente spero di riuscire a fare una case history come quella che c'è adesso su YouTube, ragazzi. Adesso stacchiamo ultime domande a bomba e poi tutti a vedere la nuova case history su YouTube, fatemi sapere cosa ne pensate. Hai per caso video cos'è WordPress e come utilizzarlo? Sì, cerca su YouTube, cerca perché devo imparare WordPress, marchetti e lo trovi. forse domanda banale ma una volta che ho creato il tema WordPress, no, il tema come faccio a integrarlo con WordPress? Guarda, ci sono più modi per farlo. Nei corsi io utilizzo il mio metodo che è il metodo più veloce e che vuol dire che tu non integri niente, tu il tema lo fai, cioè tu il sito lo fai già direttamente dentro WordPress, ok? Con il mio metodo, per quello ci metti così poco e per quello i corsi miei costano, quello che costano che è poco per quello che danno. Perché? Perché non ti insegno a usare WordPress come questo è il menu, questo è la pagina, no, ti faccio vedere quello che ho imparato in 12 anni di sperimentazione e quello che mi ha portato a creare il mio metodo che adesso mi consente di creare siti WordPress. si sente ragazzi? Adesso dovrebbe essere tornato dal vivo. Si sente? Non si sente, non si sente, ok, si sente ora sì, ok, mi si era anche pure impallata la chat. Ok, quindi con il mio metodo hai 10 anni di esperienza a tua disposizione e quindi riesci a creare i siti in molto molto meno tempo. Ok, ragazzi, quante domande siete scatenati oggi, eh? Siete scatenati. Qualche risorsa dove studiare, grazie mille, complimenti. Vai sul mio sito, in alto a destra, inizia da qui, sparati tutti i contenuti. Tra l'altro, tra poco lo aggiornerò l'inizio da qui con altri nuovi contenuti. Secondo te, il settore web design o web development si potrà imparare tutto magari con corsi su internet senza l'istruzione scolastica o universitaria? Sì, assolutamente sì. Cioè, tutto quello che riguarda web design e sviluppo web si può imparare anche se non vai all'università. Poi devi fare i corsi, devi studiare, non devi mai smettere di imparare, però ti formi tu. Cioè, la cosa figa di questo mondo è che tu non devi studiare, andare a scuola, ci vuole pezzo di carta. No, basta che fai i corsi, basta che studi tu, basta che ti hai voglia di imparare e puoi fare tutto quello che vuoi. Ok? Nessuno ti chiederà se sei laureato o se gli devi fare un sito almeno. Nella mia esperienza i miei clienti non mi chiedono se sono laureato, mi chiedono hai fatto qualche progetto che ha avuto successo, fammi vedere qualcosa delle ultime tue realizzazioni, hai mai avuto a che fare con il business del, che ne so, industriale, del controllo qualità? Questo ti chiedo. Che editor consigli? Atom. Farei mai un modulo WordPress su come realizzare una sezione di personalizzazione, loghi, colori, il customizer? Non lo so, non lo so perché adesso con Gutenberg e con tutto diciamo quello che sta accadendo nel mondo WordPress il customizer non verrà molto più utilizzato per quanto mi riguarda. anche se lo puoi utilizzare però cambierà, cambierà quindi non è adesso il customizer secondo me adesso non è un'ottima cosa da studiare. Ok, qual è il miglior modo per fare un testing di un sito? Metterlo online e fare i test. Come hai trovato i tuoi primi clienti? Dunque, i miei primi clienti anche qui ho fatto il video si chiama una playlist si chiama Web Design Coffee guardatela. Ok ragazzi ho letto tutte le domande non ci posso credere. grandi che mi avete fatto tutte queste domande mi ha fatto veramente tantissimo piacere qualcuno mi ha chiesto per le consulenze in privato se volete fare una consulenza in privato con me andate sul mio sito nei contatti mi scrivete poi ci sentiamo lì sul gruppo Telegram ultimissima domanda ci ho pensato vedremo se si fa adesso ho il chatbot però che non sto utilizzando anzi se c'è qualcuno c'è qualche esperto di chatbot se c'è qualcuno esperto di chatbot collegato che utilizza mini chat che sa utilizzare bene mini chat o che ha esperienza di mini chat andate sul mio sito nel modulo contatti e scrivetemi perché ho bisogno di una figura di questo tipo quindi ragazzi vi ringrazio della pazienza vi ringrazio di tutte le domande è stata veramente una bellissima live è uscito dieci minuti fa su Youtube il video che esistere con tutte le informazioni e tutte le tecniche che abbiamo utilizzato per creare un e-commerce performante che ha totalizzato più di mille ordini in un mese questo mese scorso quindi andatela a vedere vi mando un abbraccio forte forte e ci sentiamo presto ciao e un abbraccio raga ciao ciao